Nell'ambito del piano turismo sicuro coordinato per l'Italia dal Ministero dell'Interno, la Guardia di Finanza ha preso parte con proprio personale a servizi congiunti di patrullamento con la Guardia Civil svolti presso gli aeroporti internazionali di Madrid, Parajas e Valencia Manines, dove durante la stagione estiva transitano milioni di passeggeri. Dallo scorso 15 luglio e fino a metà settembre i finanzieri provenienti dai gruppi aeroportuali sono impiegati al fianco dei colleghi spagnoli in attività di controllo, prevenzione e monitoraggio volte a rafforzare la sicurezza degli scali in un periodo particolarmente sensibile per la presenza di numerosi turisti italiani in vacanze nel Paese, agevolandone i rapporti con le autorità di polizie locali. Il supporto tecnico alla Guardia Civil si è concretizzato in controlli documentali, screening dei passeggeri e ispezioni dei bagagli, anche attraverso l'utilizzo di apparati per la rilevazione di droghe ed esclusivi. L'iniziativa già sperimentata in precedenti edizioni ha riscosso anche quest'anno particolare apprezzamento da parte delle autorità locali a vantaggio della sicurezza reale percepita dai connazionali. La collaborazione con le forze di polizia straniere costituisce un elemento imprescindibile per contrastare le più insidiose forme di criminalità. A tale scopo la Guardia di Finanza ha da tempo sviluppato una forte proiezione internazionale anche attraverso la rete di ufficiali in servizio all'estero presso le principali sedi diplomatiche e di più importanti organismi internazionali.